E questo è una ragazza! per questo ora mi sto affrontando e con la testa, signori e signori fuori e fuori mi conviene mi conviene stare qui che fuori qui la gente è stanza ma da noi, no, no mi si fuori, ma io la prendo a caso per il portone, quando avrò il portatore, qui, in tutta tappa e sono sempre fuori ma sono fuori di testa ma si resta loro e tutte fuori di testa ma si resta loro siamo fuori di testa ma dimostra loro siamo fuori di testa ma si resta loro si resta loro ma stia Siamo fuori di testa Siamo fuori Siamo fuori di testa 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 Siamo fuori di testa